Gli attacchi di panico negli adolescenti sono una sofferenza psicologica in costante aumento. Sono delle crisi fortissime legate proprio a una sensazione di profonda angoscia, profondo terrore, profondo malessere che invadono in questo caso l'adolescente nei momenti più impensati. Gli attacchi di panico si distinguono dagli attacchi d'ansia in quanto l'attacco d'ansia ha una minore intensità, sono due tipologie diverse di sofferenza psicologica alle quali bisogna fare profonda attenzione. L'adolescente colpito dagli attacchi d'ansia e dagli attacchi di panico può mettere in atto dei comportamenti cosiddetti di evitamento, ossia chiedere al genitore di farsi venire a prendere fuori da scuola perché non riesce a prendere i mezzi pubblici, rifiutare alcune situazioni sociali. Quello che il genitore da un lato può fare è sempre l'osservazione e l'ascolto dei propri figli. Cosa sta succedendo nella vita dell'adolescente? Dal canto nostro invece come scuola cerchiamo sempre di mantenere attiva la comunicazione scuola-famiglia.